Mercoledì 11 ottobre in tutto il mondo è stato celebrato il Coming Out Day. Istituita nel 1988, la giornata accade in questo giorno come primo anniversario della seconda marcia nazionale su Washington per i diritti delle lesbiche e dei gay, tenutasi appunto l'11 ottobre. Una ricorrenza che unisce le marce per i diritti LGBT al coraggio di non nascondere chi amiamo, di qualunque sesso sia. Per questa occasione Arcigay Ragusa Arcobaleno degli Iblei ha aderito alla campagna nazionale Ho qualcosa da dirvi, che nasce da un lungo e partecipato confronto tra i ragazzi e le ragazze della rete Arcigay Giovani. La campagna consiste nella distribuzione di cartoline in vari luoghi e la diffusione sui social network. Lo scopo è quello di generare un confronto sul gesto del Coming Out e farne comprendere l'importanza, in modo particolare a tutte le persone che si apprestano a farlo e per quelle che invece stanno per ascoltarlo. In quest'ottica è molto importante non fare confusione tra le parole e comprenderne appieno il senso. La parola Coming Out viene spesso erroneamente sostituita da Outing. Con Coming Out si intende la consapevole dichiarazione fatta da una persona riguardo al suo stesso orientamento sessuale e identità di genere. Con Outing invece ci si riferisce all'azione fatta da una persona di dichiarare l'orientamento sessuale e o identità di genere di qualcun altro, scavalcando il volere di quest'ultimo. Fare Coming Out nella provincia di Ragusa è ancora complesso. Siamo stati già presenti domenica scorsa a Ragusa, dichiara il presidente di Arcigay Ragusa, Marco Igor Garofalo. Abbiamo già distribuito cartoline della campagna anche a Modica lunedì 9 ottobre e mercoledì a Scicli, mentre nella giornata di oggi saremo a Vittoria. E ha continuato. Perché oggi, come ieri e come domani, essere lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali o queer non è una disgrazia, ma è la natura. E ai ragazzi e alle ragazze che ancora oggi si nascondono suggerisco. Suggerisco, ognuno con i suoi tempi e il suo percorso, di dichiararsi e rendersi visibili. Migliorerete la qualità della vostra vita e quella delle altre persone.